Domenica 22 gennaio 2023 alle 15.30 allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta si disputerà l'incontro di calcio valevole per il cambiato di eccellenza Nissa-Akragas. L'incontro, connotato da profili di criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico a causa dell'accesa rivalità tra le due tifoserie organizzate, è stato attenzionato dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha disposto che la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19 di sabato 21 gennaio, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento di identità e per un limite massimo di 50 persone. I tifosi dell'Akragas per l'acquisto dei biglietti dovranno rivolgersi alla loro società. Una volta acquistato il titolo è incedibile ad altre persone. I supporters della tifoseria organizzata dell'Akragas saranno allocati in apposita area dedicata all'interno dello stadio Tomaselli. La questura di Caltanissetta, presso la quale stamattina si è svolto un tavolo tecnico, ha predisposto un servizio di ordine pubblico con l'impiego di unità delle forze di polizia territoriali e di rinforzo appositamente assegnate dal Dipartimento della Polizia Stradale.